Ora e sempre, esistema! Questa è veramente una piazza che va al di fuori di ogni aspettativa e questo perché appunto giustamente non solo la città ha risposto ma anche in tutta la regione, tantissimi sono i delegati dell'Ampio e di altre associazioni che sono venute a manifestare contro il fascismo. Grazie. E' stato fatto prima di vista l'errore da parte delle autorità dello Stato ma è l'attività del Ministro Fardini di la vostra interventa e di avere creato un fiorno in questo sistema.